È la prima uscita ufficiale, possiamo dire, sua per quanto riguarda il ruolo che ha di commissario dell'ASP. Io le faccio una domanda. Un ASP che è in condizioni di poter guardare al presente e al futuro? Allora, l'ASP è sicuramente in condizioni di guardare al presente e al futuro. Accennavo prima a questo nuovo corso che è stato intrapreso grazie, onestamente, al Presidente Occhiuto. Ha dato un forte impulso alle attività di riorganizzazione e di risanamento della sanità calabrese. Voi sapete che siamo in questa regione da anni in commissariamento, insomma, ci sono tutta una serie di problemi da risolvere e devo dire che il Presidente si sta muovendo molto bene. Certo, è una situazione che, essendo così complessa da parecchi anni, necessita di pazienza, ma soprattutto di collaborazione da parte dei cittadini, degli amministratori locali, dei professionisti. Insomma, bisogna ricostruire un senso di appartenenza e un senso di comunità, diciamo, sia professionale che sociale nei territori. Questa sarà la caratteristica di questa direzione. Sul 118 che cosa ci dice? Sul 118 sapete che qui, ancora una volta, grazie all'iniziativa dell'amministrazione regionale, è stato ridisegnato la struttura del 118 in collaborazione con Regione Lombardia. Regione Lombardia ha una particolare organizzazione del 118 molto evoluta e quindi si è adottato lo stesso sistema, poi naturalmente calato nella realtà calabrese. Noi dovremmo, qui la provincia di Crotone dovrebbe partire nella seconda metà di febbraio, compatibilmente con la tempistica. La nuova modalità di accesso al 118, che poi sarà il 112, numero unico europeo, è una modalità che probabilmente risentirà anche di come i cittadini calabresi sono abituati a usare il 118 e sicuramente migliorerà l'utilizzo di questo strumento, perché l'accesso ai servizi di emergenza e urgenza è un accesso che deve essere non solo pronto e rispondente, ma deve essere anche utilizzato nel modo corretto sia dai cittadini che dagli operatori. Quindi, insomma, si tratta anche di un cambiamento culturale. Io ho guardato come è stato usato negli anni il servizio 118 in questa provincia e devo dire che ci sono spazi di miglioramento. Sono confidente, nel senso che il sistema verrà centralizzato, quindi anche se il cittadino non se ne accorgerà neanche, e per le modalità di funzionamento dovremmo avere un servizio di 118 più rispondente e anche più efficiente.